Frenano i casi da coronavirus in Calabria, ma ad onor di cronaca va anche detto che i tamponi effettuati risultano essere la metà di quelli fatti il giorno precedente. Dall'ultimo bollettino diramato dalla regione si apprende infatti di 5 nuovi contagiati tra la provincia di Catanzaro e quella di Vibo Valencia e tutti riconducibili a focolai noti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della regione per comunicare la loro presenza sul territorio sono in totale 938. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale Pugliese Ciaccio sono 12 di cui 5 riferiti a persone non residenti, anche a Cosenza 12 e dei non residenti 3. A Reggio Calabria sottoposti a screening 287 nuovi soggetti, gli esami diagnostici eseguiti presso il laboratorio di Via Willermin hanno dato per tutti esito negativo.